Il servizio veterinario dell'ASL ha inoltrato al sindaco del comune di Alcara-Lifusi un'ordinanza di abbattimento di bovini presenti in un allevamento infetto. Tale direttiva è stata presa in carico dal Corpo Forestale che, tra il 5 e il 6 di dicembre, ha provveduto a catturare e a trasportare i bovini presso il macello di Mirto. Tutta l'operazione si è svolta in collaborazione tra personale del Corpo Forestale RSE, operai del Dipartimento Sviluppo Rurale Ufficio di Messina, le stazioni dei carabinieri di Alcara-Lifusi e Militello Rosmarino ed il personale del comune di Alcara, sia polizia locale che dipendenti. Sono stati catturati numero 81 capi bovini e trasportati al macello di Mirto. La biosicurezza è uno dei principali strumenti di prevenzione che il personale veterinario ha a sua disposizione per prevenire l'introduzione, la diffusione e soprattutto lo sviluppo di malattie animali trasmissibili. Quando questa positività è manifesta, l'allevamento deve essere abbattuto nel minor tempo possibile, considerata l'alta infettività per l'uomo e per gli altri animali presenti all'interno dell'allevamento.